Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video apriamone la surprise che bello allora ragazzi che ve lo dico a fa io vorrei trovare unicone ve l'ho detto anche l'ultima volta l'ultima volta ho trovato down dov'è? questa e niente vorrei trovare unicone grazie per questa meravigliosa fantastica apertura di oggi ci accompagnano a presto chi li va? lo sappiamo tutti poi abbiamo una fantastica dollina è una tra le mie preferite anche io guardate quanto è bella è bellissima è stupenda poi abbiamo tasca ciao poi abbiamo le nostre go 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 madame si ciao loro ci sono sempre ci saranno sempre perché mi piacciono e poi ci saranno anche sempre sugar e glitter si ciao queste due mi piacciono tantissimo ragazzi tantissimo vabbè andiamo con l'apertura da da lol surprise aspetta momento check list momento check list molto veloce vogliamo unicorn ecco vogliamo unicorn grazie vogliamo unicorn faraon unicorn unicorn faraon poi vogliamo se proprio punk boy se proprio glam glam stronauta grazie e poi per il resto anche flower child però guarda che carino che vabbè ragazzi quello che troviamo troveremo so io mi sto demoralizzando queste confetti pop io veramente sono più fortunata con le glitter questo si è capito che con le confetti pop assolutamente siamo più fortunati con le glitter vediamo il vizio ecco vedi cioè figurati figurati se devo trovare qualcosa di decente io vediamo che no ragazzi no questo club qua cioè ce li ho praticamente tutte tranne lei io non le voglio più trovare soprattutto sprint non voglio trovare ma si è già capito che atleti o swing club o athletic club anche queste ce li ho tutte tranne riptide vabbè si è già capito che questa apertura non ci piacerà molto mamma mia ma che cosa si deve fare per trovare unicorn fatemi capire cosa si deve fare per trovare unicorn aspettate che sposto che sposto un attimo cioè io non lo so veramente comunque anche se non troverò unicorn queste sono le ultime bolt che apro delle cuffie t-pop basta basta perché una certa basta se può andare avanti o no i nostri già guardo già mi hanno demoralizzato terribilmente sto indizio qua scusate gli adesivi non siamo per niente felici di questa apertura però si sapeva perché più ne hai più è facile trovarle doppie anzi già tanto che l'ultima volta non hai trovato una doppia ci sta che oggi c'è una doppia si questo qua del pallone non so quante volte l'ho visto mi sa che è sprint no allora se c'è un'altra sprint veramente la customizzo eh la customizziamo se è una sprint si si assolutamente la customizziamo non so quando ma la customizzeremo basta allora facciamo diventare un'altra persona facciamo diventare che io ho già capito che è una sprint questa l'abbonamento con sprint abbiamo fatto va bene gira la ruota gira la ruota e vedrai che ti diverti anche tu aspetta tira fuori il sacchetto tira fuori il sacchetto e vedrai che ti diverti anche tu non voglio che sia sprint non voglio che sia sprint ma mi sa che sarà proprio lei tira fuori il sacchetto tira fuori tira fuori il sacchetto e vedrai che ti diverti anche tu molto moscia sta canzoncina oggi eh si perché già parti con il cervello che è sprint io non sono felice se trovo sprint scusami vabbè tira fuori il sacchetto tira fuori il sacchetto e vedrai che ti diverti anche tu vediamo ciao allora aspetta facciamo un po' di spazio qua per i confetti pop i pop qua allora pronti partenza via oddio vabbè tiriamo via intanto qua e tiriamo via qua e tutti i coriandoli tiriamo via tiriamo via tutti i coriandoli eccoci qua ragazzi io credo proprio che sia sprint si sente già dal tatto che è lei si sente già dal tatto che è lei vabbè sai che cosa facciamo apriamo apriamo la lol oggi dai oggi partiamo dalla lol perché tanto si è già capito che è lei vediamo eccoci qua quanto sei bella quante volte ti ho trovata io a te questa è la terza volta che ti trovo quante volte ti devo trovare ancora fammi capire non te posso vedere non te posso ma infatti io ti costumizzo basta tu non sarai più sprint sarai un'altra persona guarda secondo me è l'ideale per farci per farci Harley Quinn che volevo fare da non so quanti anni adesso intanto tiriamo fuori tutte le cose di sprint ma lei non cambia neanche colore immagino che non fai nulla te vediamo scusate no sprint non cambia neanche colore certo figurati se se facevi qualcosa ma va apriamo i sacchettini no ma tanto ti costumizzo deciso quando è troppo è troppo è troppo stroppia giusto giusto guarda c'è anche la canocchierina ideale per fare per fare Harley Quinn sia i pantaloncini che la magliettina sei perfetta per fare Harley Quinn credo che dopo Natale perché adesso non ho proprio tempo non ho proprio il tempo adesso che siamo in giro a fare i mercatini e a lavorare per quello ma io dopo Natale ti trasformo guarda che la magliettina è perfetta per fare Harley Quinn i capelli sono perfetti gli devo solo aggiungere qualche cosina sei perfetta per fare Harley Quinn si 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 diventerai Harley Quinn sei contenta Sprint si perché non te se può guardare più non te se può guardare più aspetta aiuto ma ti entra questi pantaloncini ma le lol hanno dei problemi sul di dietro questi vestitini è molto corto il suo pantaloncino guarda l'ideale per fare proprio ma non ti entra figlia mia aiuto si ti è entrato dai mettiamo la fascia eccoci qua cioè Sprint basta io non ti voglio più trovare veramente adesso questa qui la trasformeremo e va bene l'altra mi inventerò come trasformarla perché ne ho due di Sprint anzi se qualcuno fosse interessato ad avere una Sprint che non ce l'ha io ne ho due una diventerà Harley e l'altra scambiamo non so vedete voi qua cosa c'è dentro c'è il ciuccio no ci sono i pulsini eccoci qua il pulsiere è vero che c'avevi anche le pulsiere non mi ricordavo più neanche questo ti entra mamma mia oh mamma che fatica oh non gli entra raga cioè non gli entra oh mio dio senti vediamo quest'altra vabbè non gli entrano che vi devo fare vi devo spingere devo allargarle un po' e poi forse ma tanto per fare Harley non gliele devo mettere per cui sto a posto vediamo le scarpine oh Sprint 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 ci voleva proprio ecco le scarpine ma si dai potrebbero andare bene anche le scarpine per fare Harley anche se lei ha degli stivaletti però li facciamo andare bene ce li ha neri e bianchi Harley per cui sono perfetti guarda non vedo l'ora di costumizzarti va bene ragazzi dite addio a Sprint a me non mi piace sto fatto che non entrano sti cosi qua va bene dite addio a Sprint ragazzi perché questa è l'ultima volta che la vedrete addio Sprint non farti più vedere grazie e dopo Natale la vedremo trasformata ci farò un video ovviamente farò un video trasformazione da Sprint che non la possiamo più vedere ad Harley Quinn va bene ragazzi vi saluto e alla prossima ciao 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 Ciao!